Ok, ciao, benvenuta a Persino Silvia della marca BPM, terza classificata oggi qui a Barberino. Anche a lei stessa domanda, il percorso è piaciuto? Sì, era duro, molto duro, però ce l'ho fatta, terzo posto, sono soddisfatta. La giornata di acqua e vento è stata abbastanza fastidiosa, come sei trovata? E' male all'inizio, però dopo ce l'ho fatta, ad arrivare terza, quindi va bene così. Ti aspettavi un risultato del genere, le condizioni delle ultime settimane parlavano così o è stata una sorpresa? No, sinceramente no, perché non sono ancora in forma, però va bene, sono contenta. Ovviamente, il terzo posto va sempre a scegliere. Obiettivi particolari, qualcosa a cui ambisci o per la società... Ma vorrei puntare sull'italiano su strada e poi vissare la Coppa Rosa, come l'anno scorso, e poi basta. Ok, perfetto, grazie mille. Grazie, ciao. Grazie.